91 classi, 2250 studenti, sono i numeri del liceo Brocchi di Bassano tra i più grandi e prestigiosi d'Italia con i suoi 201 anni di storia. Il 14 settembre è la data X, ma la prova del 9 per capire se il piano messo a punto in questi mesi dalla scuola potrà funzionare, si sta già facendo in questi giorni con i corsi PAI, i vecchi corsi di recupero. La campanella è pronta a suonare, pochi dettagli, compreso qualche banco, mancano all'appello. Il liceo è invece pronto ad accogliere i suoi studenti nelle tre sedi, compresa la nuovissima all'Istituto Graziani, dove andranno le otto classi sinora ospitate al Mazzini. Nessun orario differenziato di inizio e fine scuola, ma gli studenti entreranno in classe da nove ingressi diversi per evitare assembramenti. I ragazzi di prima e di quinta frequenteranno tutti i giorni lezioni a distanza solo per gli studenti di seconda, terza e quarta, che seguiranno da casa al massimo il 33% delle ore, con un'alternanza di due settimane a scuola e una no. Dal Covid una buona notizia arriva, raddoppiano gli intervalli che saranno due di 15 minuti per tutti gli studenti, che in una delle due pause potranno uscire nel cortile, mentre nell'altra resteranno in classe.